ciao a tutti ragazzi bentornati su forcraft siamo nella mappa giapponese con mr x e tante altre brutte persone oltre a lui avremo però la mappa infarcita di soli esplosivi perché questa è la modalità che utilizzeremo oggi partiamo ragazzi adesso avete 10 minuti per salutare a partire da ora per 10 minuti potete salutare ininterrottamente sono le cose tornare in questa ma vero questa mappa qua mi ricorda tante cose allora ogni mappa di forcraft la cosa bella è che ha sempre un aneddoto da raccontare questa ma c'è sempre una cosa che ti stupisce caro tech ecco ma che cosa ma chi è che siete tutti qua raga ma siete fuori ragazzi prendetevi questa ok che vero sono esplosivi e si è rimasto nel trovare lo stinger adesso dovete usare i sedanini altro che non voglio usare i sedani questa non è tanto sia esplosiva ma perché ho scelto questa modalità che so che falli rota ci saranno un sacco di gaffi sta sta cosa si morirete tutti che state registrando vero morirete tutti da da qualche esplosione sicuro solo esplosivi grande fede che non ha neanche esplosivi ecco perché trovo solo bombe io ho trovato solo c4 fai te perché ho trovato due jump di giama scusa ma come jump che fortuna esplodono beh sono splash si sono splash splash oh minchiera hai avvitato pure il barretto esplosivo no che bello è il barretto esplosivo cavolo è l'unica cosa che non che non dovevi trovare l'hai trovata vabbè cerco tano mazzo tano e sono contento però stai attento ti dico solo questo perché io ho un rpg ma quello ce l'ho anch'io tano sì sì ma il mio è un rpg lo sai che il tuo role play c'è come un role play non capirò mai non ci arrivano tano che non ha gridato cose cose che c4 io c'ho solo raga io lancia granate ma cos'è sta roba al treno ma cos'è raga si sentì davvero cos'era che era sentito anche il treno non so perché c'è non si sente mai stavolta c'è incredibile il treno ha sonato fortissimo ma si infatti ha rimbombato tutta la milano ha fatto un treno pensavo che era nel gioco pensavo avevo giunto la modalità dei treni raga nella mappa western che c'è il treno in realtà lo sentivo pianissimo sembrava tipo un sottofondo di qualche cosa davvero vabbè comunque chi si forse non ho tolto l'entità adesso le tra io comunque sto mettendo tanto c4 nei punti caldi della mappa e lo premerò a random ti ammazzo qualcuno non è colpa mia va bene qualcuno mi sta sparando con lancia granate no e poi ce l'ho sempre attaccato alle palle non sono io e non sono io tanno cosa c'è cosa è successo che non vai più in palestra ecco è raga mi sono ammocciato non è che prima fossi poi così è no no raga ero enorme ero enorme raga ho dovuto comprare una scrivania più grossa perché non c'è stato è la sedia la sedia da gaming l'ho presa perché ci stavo proprio più grosso quella di prima l'hai sfondata di la verità dalla larghezza no no era una di quelle belle robuste in legno antico però il legno antico è un trono un trono da gaming sì sì però penso comunque ci stavo un po' stretto poi sono diventato ancora più enorme e ho detto via qua serve una sedia con le top pensa tanno che oramai ci conosciamo da quanto? 5 anni? 4? beh considera che emerald lo conosco da 6-7 anni 8 forse ah di più vedono un po' gli effetti su di me raga non trovo più le casse probabilmente non le vedo però non le trovo raga non ci sono le casse ah ho fede anche per noi no no ma io sto in serio questo è il primo stinger che trovo wow oh non sono mai stato qua dentro penso ho fatto la mappa questo come si chiama stinger missile 1 a 1 ma non c'era una cosa segreta qua non mi ricordo ah sì qua però qual'era? titolo base segreta in forcraft con gli scp dentro ovvio ovvio gli scp sono come l'insalata ho trovato la base segreta degli scp e li ho catturati con la schiena dei youtuber famosi leggendari minchia che si baciavano ho trovato uno stinger e li ho capito cavolo questo è un mix un po' troppo ma basta raga sono solo c4 io cioè c'è solo c4 posso piazzarlo dappertutto e far saltare tutta la mappa e prima o poi qualcuno lo prende ma infatti così sto facendo lo sto piazzando in giro ma apri vuoi questo ragazzi la cosa divertente ragazzi lo piazzo talmente vicino che se uno fa scoppiare un c4 scoppio tutti di fila oh e lo stinger i sedanini però i sedanini chi è stato raga? chi? dove? raga sento esplosione guarda che roba c'è c4 io non giendo c4 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 allora carichiamo anche il c4 lo stinger è lento come la fame il sedano qua non è brutta questa modalità no è bella ma bisogna capire un attimo oh questo si potrebbe servirmi un altro lancironate eccolo qua eccolo qua che ritardato raga no è bella ma bisogna capire un attimo oh questo si potrebbe servirmi un altro lancironate eccolo qua eccolo qua che ritardato raga cosa ha fatto Tano? ho provato a sparare il razzo da un murettino e lui invece mi ha sparato col pompa ah beh però non ho capito se tu mi hai sparato dopo cioè hai esperto il barco e tu mi hai ucciso oppure no quello non l'ho capito sarebbe da rivedere quello neanche io facciate la clip che andremo a vedere perché secondo me se non ti sparavo con il lancerazzi forse non ti privo il buco e tu non ci devi allora io faccio questa cosa perché se no non veramente allora qua posso andare sì hop io non ho ancora visto nessuno a parte le granate venga ma io non mi vedo cioè non capisco ma tu sai dove sei Fede io ma io sono tipo nel tempio con il coso giallo sopra i cosi d'oro ah tranquillo arrivo io Fede è me io non so se hai visto ma ho completamente l'inventario pieno di C4 eh non te lo posso dire esplicitivamente se me è esploso però non ti vengo a trovare mi dispiace è ancora lì? io non so qui a farmi sparare mi dispi... so ciao però sei arrivato fino a qua anche tu non pensi che ero lì t'ho visto t'ho anche sparato ancora non lo so non t'ho visto io adesso io inizio a sparare a caso sull'isola e intanto è finito il tempo quindi attiviamo finito il tempo delle mele no 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 cosa no? no 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 non fate cose sento sparare delle bombe sono io che ti sparo gli RPG a caso perfetto me ne vado via eh no non resto qua a farmi sparare no dai ecco che fa la vanilla vabbè fede cosa? e niente easterix sottoterra oh dio ricominciamo guarda che qua vabbè si 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 ci vai guarda che qua sono i buchi eh oh e oh ciao emerald ciao emerald oh dimmi che c'ho no no perché sento sparare oh che liscio a me? si mi stai seguendo ancora? ma cosa mi segui? no non ti so ti sto sparando da lontanissimo eh da lontanissimo non mi sembra tanto lontano scusate raga c'è fede che qua è veramente camperato davvero? si no emerald non sono camperato emerald da dove stai sparando eren? da dove diavolo stai sparando? non te lo dirò mai da dove sto sparando no ha finito i proiettili ok sali 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 ciao tech oh che liscio vai via ma l'oddio albero io non ho paura di emerald che sbuga all'improvvisa adesso mi prende lo so oh c'è una cassa cassa mia cassa mia ma no ancora c4 ma lo seguiamo questo tech madonna eh non ti insisti oh ma fede io so che sei qua sotto ti prendo cioè io c'ho eme c'ho eren che mi sta alle calcagna non so dove perché quest'albero qua è tutto un disastro nella mappa non lo vedo scusa nelle mappe non lo vedo ma lanciate le cose che fanno la scia anche porca che hit che hit l'amorolla te hai tolto mezzo cuore ah sembrava molto di più in verità dai fede mi hai preso di liscio è una battaglia sugli alberi raga come le scimmie ciao emerald ti voglio bene quelli due là intanto stanno facendo non so bene che cosa si fanno le loro cose brucia tech brucia brucia bruciare no dai fede dove si è andata guarda come scappa guarda come scappa tavole e le caramelle oh sono caduto dall'albero ti è piaciuto le caramelle che è arrivata lì dall'alto il palbero no la caramella è stata bella però ti ho fatto una parabolina questo cucchiaio alla torre l'hai visto ti ho detto adesso gli arriva dall'alto puff ho calcolato la parabola allora io ho pieno apprezzato tanto c4 se esplodo esplode tutta la montagna io sto arrivando vi sbatto di la granata ma quante volte devi prendere io scappo io mi sto tirando una granata in mezzo raga l'ho fatto non c'è ho sceso niente ma io l'ho tirata si ho sentito un bombettino partire barret esplosivo e tu hai il barret esplosivo e sei sulla montagna pò 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 erano per segnalare a te che dove stavi Meno male che ho svariati i miei di questo Ma l'LPG è forte No Allora Lo stile è comunque meglio di niente Ma da dove stiamo sparando raga Io non ci capisco più niente Tech Fermo 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 Guarda ne vuoi un po' No Guarda È C4 Guarda quanto ce n'è Solo quello ho preso Raga mi sei scappato perché qua Cosa stai facendo? Eh io riempio tutto di C4 ora No Aia Facciamolo esplodere un po' sto C4 Cocane Facciamolo saltare questo C4 Questi topolini Nascosti nella foresta Dove siete? Maledetti Non ne ho una perfe Si trafficano Maronno Padre Maronno No Sono caduto dall'albero Non è vero non sei caduto Sì però ho trovato un altro medikit Dai va bene Mi giuro raga c'è Poi che mi è appazzato tanto l'ho scoperto che sto là Cioè va Tech Si Maledetto Si Piove C4 dove c'è Tech Piove tanto C4 Stava per esplodere Oddio 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 Adesso devo beccare fede Ma sai che sei un camaleonte Non ti ho visto lì sul pilastro Aspetta Dove è finito Ho visto uno volare Eh 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 Ehm che scappava Yeah boy Tante granate ora No Quella lì non era Ehm Era una pecora Ehm Sì Dove sei? Oh mio Dio Cos'è successo Via 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 Dove diavolo è? È da un'ora che siete vicini Mi è arrivato addosso Siete stati sceltatini Maledetti No no Mi ti sei arrivato addosso A tutta velocità Cioè Mi hai tolto quattro cuori con quella roba eh Un cavolo praticamente Beh insomma Metà vita Uh 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 Mio 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 Ok Guarda lì Cosa fanno Oh Perfetto Qui subito Io scappo Dove cacchio è finito? Ah Devo fare una cosa Un po' di rispetto per quel tempietto Vi prego Il tempio lo state distruggendo Ok Ok No 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 Arrivo raga Arrivo Sto andando Sto per andando Dove sta? Ma chi è? È un ninja Oh oh Dai Dai Tararan tan 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 Che palle Dall'albero Oh guarda quante cose ci sono qua per terra No Guardali guarda No ma per aga non ci credo Che fine infame È precipitata da solo Io non ho fatto niente Aspetta 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 Aspettate Ti ho sparato sotto i piedi Io No Ho fatto che Stavo per atterrare Ho fatto rotellini No Oh Cioè Fede Hai sconfitto Tech Con il trick Che ti ho sconfitto Nella prima partita Non lo so raga Io stavo le tre ore intorno A girare Però vabbè Raga È la fine della rotella Va bene Ok E niente raga È finita così Con una rotella Venuta mal Mi manca una rotella C'è che Addio